L'algoritmo preditoriale L'algoritmo preditoriale Quelle sono case popolari E la gente che non può permettersi di vivere a San Francisco Dove cazzo se ne possono andare? Ecco, bravo, incazzati, Marcos Ci servirà quando darei la caccia alla blu Oh, sì, non vedo l'ora Hai ragione, questa è ingiustizia di sistema ai massimi livelli Bel lavoro, Josh Beh, Ray mi ha aiutato a superare il firewall No, hai fatto tutto tu, Josh Bel lavoro Ehi Sei frustrato, lo so Siamo tutti incazzati C'è una parte del mio codice in quel cazzo di mostro Se il sito S dice alla polizia di aspettarsi una sparatoria Quella è arrivarmata fino ai denti In pratica, non farti sparare Capito Grazie, mamma e papà Sigh A presto Beb 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti